Oggi per noi è un grande giorno perché proprio ricordiamo in questa occasione quello che successe tanti anni fa, cioè nel 1793, il 2 maggio, quando per la prima volta la Biblioteca e i Musei Oliveriani furono aperti al pubblico. Per questo dobbiamo ringraziare Annibale Olivieri, che è il nostro fondatore, che con il suo testamento ha deciso di lasciare tutte le sue proprietà, libri, documenti, reperti archeologici, monete, medaglie, eccetera, alla città di Pesaro, alla comunità di Pesaro e soprattutto a beneficio dei più giovani, lo dice proprio espressamente nel suo testamento, affinché tutti diventassero più culti e toperosi e quindi proprio per cercare di dare un suo contributo a rendere i cittadini sempre più bravi, più lavoratori, più istruiti e quindi anche una città più felice. Oggi abbiamo avuto il piacere e l'onore di festeggiare i 230 anni di questa signora meravigliosa, l'Oliveriana, che se li porta benissimo, peraltro, e che il cuore davvero pulsante, il cuore culturale e non solo della nostra città, l'abbiamo fatto attraverso le nostre speranze, il nostro orgoglio, che sono i più piccoli lettori dell'associazione, perché noi abbiamo due motti, uno non è mai troppo tardi e l'altro non è mai troppo presto. Quindi pensiamo che la lettura, il libro in particolare, sia davvero un ottimo antidoto a tante cose, alla solitudine, alla noia, alla povertà, perché appunto il libro è un compagno che apporta una ricchezza spirituale da sempre, fin da quando siamo piccolini. E oggi per questo compleanno abbiamo pensato a chi porterà avanti la cultura poi, dopo di noi, e quindi i bambini, in questo momento sono all'annunziata, dietro di me c'è un'orchestra di ragazzini, di bambini fantastici, sempre questi ragazzi che porteranno avanti questa cultura e penso che sia proprio la chiave di lettura per questo bellissimo compleanno di 230 anni di Olivieri. 230 anni che possono sembrare tanti, sono tanti, per la storia, per quello che la biblioteca, e i musei, insomma, l'Inter rappresentano per la città di Pesaro, per la cittadinanza, ma in realtà per il panorama culturale nazionale e internazionale, ma anche una grande freschezza nel modo di viverli, non solo di festeggiarli, ma anche di aumentare di giorno in giorno anche la rete dei rapporti, delle collaborazioni e dei canali di pubblico che collaborano in varia misura con la biblioteca, compreso oggi, in questo compleanno, in cui dalla rievocazione storica, a partire dai Piceni, fino alle letture delle piccole voci, fino alla musica del progetto artistico-culturale inclusivo di Libera Musica, sono protagonisti di elementi di racconto che, come aprendo ogni libro, generano ulteriori spunti di racconto e di riflessione e di allargamento verso la comunità, che poi è un po' il dettato originario dell'Olivieri nell'andare a istituire questo patrimonio. Quindi siamo felici di questo momento, siamo felici dell'attività della biblioteca e anche di come si collega con il museo, le sentimenti riaperte, sono un grande patrimonio, ripeto, non solo librario, non solo artistico, di disegni, di opere, di carte geografiche, di mappamondi, di reperti archeologici, di opere d'arte, ma un grande patrimonio anche di rapporti umani che sono poi, diciamo, alla base della trasmissione culturale.